E' venuto il grande giorno, dobbiamo spostare il pesce dalla sua boccia, dove è sempre stato da quando l'abbiamo trovato, all'acquario che abbiamo comprato, l'acquario che abbiamo avviato una settimana prima, secondo un processo abbastanza standard per cui si versa dentro l'acqua, si aggiungono i batteri e dopo una settimana circa, adesso siamo anche andati a fare controllare il pH eccetera, l'acqua è precisa per il nostro pescerino rosso e adesso lo dobbiamo spostare da qua alla dentro, per farlo in modo meno traumatico che cosa dobbiamo fare? Per spostare il pesce bisogna prima svuotare un pochino la sua boccia e poi con un semplice bicchierino, noi usiamo questo ma potrebbe essere la dimensione di un bicchierino di caffè, ogni 5 minuti andremo ad aggiungere un po' di acqua dell'acquario, quella che abbiamo trattato là in fondo, all'interno della boccia, in questo modo il pesce si abituerà così per dire al nuovo ambiente in modo progressivo, tutto questo per 20 minuti, quindi ogni 5 minuti andremo a mettere un bicchierino di acqua preso dall'acquario dentro la boccia e questo è il modo migliore per mettere il pesce rosso nel nuovo acquario. prendiamo un bicchierino di acqua dell'acquario e lo versiamo nella boccia del pesce, un bicchierino ogni 5 minuti. allora eccoci, siamo al grande giorno e al grande momento di mettere il nostro pesce nerino all'interno della boccia, adesso lui non sarà molto contento perché lo devo prendere con il bicchiere e ovviamente non si fa mai prendere, ci volevo un bel rettino qua, altro che è un bicchiere, un bel rettino, oh ma, sei incredibile eh, oh, preso e adesso finalmente pesce, andrai nel nuovo acquario, benvenuto nella nuova casetta e voilà, cosa ne dici? mi sposti la boccia che facciamo, la sposto un pochino più a destra che facciamo una zoomatina sul nostro pesce rosso là in fondo, vediamo un po' per la prima volta nella sua nuova casetta come ti sembra? è molto bello molto bello, ma ti sarà contento di essere nella nuova casa, guarda com'è lì che si guarda tutto intorno nel suo nuovo acquario abbiamo messo anche una lumachina, c'è una lumachina nera lì a sinistra, in basso a sinistra per tenere più pulito il fondo dell'acquario bene, il nostro pesce è arrivato sicuramente prima o poi arriverà una nuova amica, salutiamo tutti, ciao chiuso, ciao ciao